Eccoci nel primo tempo partita, quinta B vecchie glorie Muttato di 1-0 per la quinta B Qui La vecchie glorie subiscono un fallo Calcio di ripropinzione Che è la battuta? Grimaldi La spida è speciale, andiamo Grimaldi Si posiziona Calcio Antonio Amato Fetta una pezza Schiano Per Scarpati Di nuovo indietro per Schiano Lancio lungo Per guerriero che di testa Lo abbiamo amato Attento Lo abbiamo amato Sbagliato il rinvio La regala a Schiano Che fa partire il contropiede Scarpati Super a ricchio Atacca A Grimaldi Attenzione Palo Esposito Di sinistro La mette fuori Auricchio Attenzione Antonio Esposito Tartassa la porta Volta Il calcio d'angolo Alta Tartassa la linea in mezzo Grimaldi di petto Stanno la prendere di mano La dà al compagno Grimaldi Te la mette a terra Punta l'uomo Sbaglia Sbaglia Sarà guerriero Qui Marco e bronzo Quando la regia Ci dice Che non sanno fare niente Non sanno fare niente No qui Auricchio La fa uscire Auricchio Non controlla bene Faccio il bullo L'aldo baglio Schiano Altri uomini Altri uomini Altri uomini E' il tunnel Il tunnel Auricchio Si deve mettere l'ergogna Quando si comprano a Rolando Si combattono un guerriero Subisce anche fallo Ragazzi cosa ne pensate di questa partita Ragazzi cosa ne pensate di questa partita Stanno parlando di film Cinematografia Cosa ne pensate Che Grimaldi è zero Che non sa fare niente Pensavo fosse cresciuto in questo periodo Si sente chiamato in calcio Si sente chiamato in calcio Che la gelosia che lo fa a parlare Non è giocare Grimaldi Attenzione che Gaetano può segnare E' pericoloso Andiamo qui Auricchio Sulla battuta Il destro Non va Attenzione Scarpati Sciola Attenzione sinistro Andiamo Adamo Bellissimo il limone Amato Volpe Attenzione Supra Scarpati Attenzione Uno due Incredibile Volpe Incredibile gol 2-0 Di applausi della platea Auricchio guarda Cosa ne pensi Stiamo gestendo bene Speriamo di continuare così La partita è difficile oggi Non bisogna sottovalutare Complimenti guarda Complimenti Attenzione Conola è entrato in campo Attenzione Attenzione Conola show Siente carico Siamo a quest'ultima azione E' sposto Gli tacco Per scippa Attenzione Conola Furtano Li favorisce Vediamo qui il collegamento Per il primo tempo Da partita Con i protagonisti La partita Quinta B Vecchie Glorie Il trato che porta A casa La quinta B Un paio di gol E' una vittoria importantissima Abbiamo giocato bene Davvero una serie Di vittori incredibili Tutte combattute Complimenti agli avversari C'è un po' la torcia Loro sono i primi in classifica Direi immediatamente La differenza l'ha fatta il portiere Comunque ha fatto delle parate Stratosferiche Oserei dire E' la vittoria comunque è meritata Perchè hanno creato di più E' niente Cercheremo di fare meglio La prossima partita Vabbè Questa è una parola di Antonio Amato E Grimaldi Inquadrati Diciamo quanti Grimaldi Ma di cosa l'hai fatto Quest'oggi No oggi diciamo Ho deciso di un po' di rias E starei con Patti Però Sto a secco Sto a secco Vabbè Diciamo che sarò proprio sfortunato Col penno dei Patti Poi magari Mi sono superato in qualche occasione Però hanno giocato benissimo Comunque alla prossima Mi parlo Ok ragazzi Allora alla prossima Grazie